Più di 4.000 incontri tra aziende e operatori è il bilancio finale della due giorni di Buy Wine tenutosi alla fortezza da basso di Firenze il 10 e l'11 di aprile. 240 produttori hanno incontrato 193 buyer internazionali provenienti da 40 paesi differenti, contatti che nella stragrande maggioranza dei casi hanno portato a vere e proprie trattative commerciali che produrranno un volume d'affari da 3 milioni di euro. L'edizione 2024, appena conclusa, ha salutato con favore il ritorno dei mercati asiatici, tra cui la Cina, oltre a nutrite delegazioni di compratori dei mercati classici come USA, Canada e Europa. Particolare interesse anche verso la Sud America e l'India da parte dei produttori toscani che hanno portato in fortezza ben 1.500 etichette di 51 denominazioni in degustazione. Il Buy Wine si è confermato quindi una grande vetrina internazionale per la produzione vitivinicola toscana, rappresentata quest'anno da oltre 38 milioni di bottiglie. Molto soddisfatti dai primi sondaggi, sia i venditori che i compratori, quest'ultimi hanno valutato i vini appropriati per i propri mercati per l'83,6%. Per il suo lavoro, il nostro 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 lavoro. Grazie a tutti.